Buon pomeriggio cari amici, terza puntata della nostra telenovela Giuntoli, sì o no? Ricordo un po' la favola di Cenerentola che scappa a mezzanotte, perché a mezzanotte abbiamo poi la scadenza del termine perché la Juventus possa depositare questo contratto che non sarà stato scritto in un attimo immagino. Comunque, alla fine il principe azzurro sta provando le scarpette, Scanavino che proverà le scarpette, ma tutte a parte. Il Corriere dello Sport lo dà per fatto il contratto, o almeno l'accordo, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe un accordo verbale, fa il presidente dell'Aurentis, Aurelio, è giunto lì, che rinuncerebbe ad alcune mensilità liberandosi dall'ultimo anno di contratto con il Napoli e sempre secondo il Corriere dello Sport, lo avrebbe già detto anche a Scanavino. Ma in questo momento, da quello che si apprende, da quello che leggiamo sui giornali, giunto lì in Toscana a casa dei genitori ed è lì che attende la convocazione da parte del presidente dell'Aurentis per definire la rescissione del contratto e conseguentemente sottoscrivere quello con la Juventus. Nelle puntate precedenti avevamo parlato della proposta, o meglio, della Juventus e soltanto che gli fosse stata anche proposta l'acquisto di un calciatore per liberare Giuntoli, cosa che è caduta nel vuoto e però hanno lasciato tutta la responsabilità e l'arte diplomatica a Giuntoli nel liberarsi e, insomma, tattica che sembra, da quello che leggiamo, però attenzione perché il colpo di scena è sempre in agguato, possa aver fatto breccia nei confronti di Aurelio dell'Aurentis o d'Andonio dopo i contatti telefonici. Quindi mancherebbe pochissimo, non siamo sul filo del rasoio per sbloccare la situazione e vedere Giuntoli nella fredda e affascinante Torino. Un soluzione che porterebbe avanti il progetto impostato dal nuovo CDA, però facciamo un piccolo calcolo. Alla fine noi siamo di fronte a... beh, mentre sto registrando mancano 15 minuti alle 15, guarda un po' tu e il tutto dovrebbe essere depositato entro oggi, entro il 30, in Lega, se no questo matrimonio sarà da fare in maniera molto più complicata. Noi siamo qui in attesa. Lui rinuncerebbe ad alcune mensilità, insomma un miliardo, un miliardi, un milione di euro, scusate, pur di arrivare alla Juventus. Però in questo momento notizie alla terza puntata della telenovela non ce ne sono, ma noi la seguiremo con costanza. Se ci sono aggiornamenti siamo qui. A prestissimo.